I boss della mafia garganica Marco Raduano è stato riconsegnato alle patrie galere, arrivato oggi in Italia dopo essere stato arrestato in Cossica e detenuto nel regime del 41 bis. E' quanto dichiara in una nota Andrea del Mastro delle Vedove, sottosegretario alla giustizia. Con la cattura di Raduano ha sottolineato lo Stato ha inflitto un duro colpo alla criminalità organizzata del Gargano. Mi auguro che grazie al proseguimento delle indagini possa essere scoperchiata la rete di fiancheggiatori che ne hanno favorito la latitanza, affinché anche loro possano essere assicurati alla giustizia contro la mafia. Lo Stato non arretra. Raduano è stato catturato il 31 gennaio in Corsica, dopo quasi un anno e mezzo di latitanza, a seguito dell'evasione da firm dal carcere di massima sicurezza a Nuoro in Sardegna, il 24 febbraio del 2023. Oggi è stato estradato ed è rinchiuso nel carcere dell'Aquila, carcere di massima sicurezza. E' stato arrestato a Bastia mentre si trovava in un ristorante, non era armato e aveva con sé documenti falsi. Un giorno prima era finita la latitanza anche del suo braccio destro, Gianluigi Troiano.